E' un bel numero, io credo che oggi come già sapevo e come ho detto durante la conferenza di presentazione non siamo al top ed è normale che sia così, nemmeno Milano era al top assolutamente non è stata una pallavolo esemplare, oggi abbiamo giocato di squadra, abbiamo visto soffrendo alternando i momenti down e i momenti up, abbiamo forse alternato anche le giocatrici perché si può dire che ognuno ha giocato bene 1-2-7, è stata una buona prova di squadra, non da altissimo livello, però quello che conta è portare a casa un risultato così, mi ha iniziato la stagione con un trofeo contro una squadra come Milano che è stata attrezzata a mio avviso in maniera incredibile per vincere, noi siamo una bellissima squadra, ho già fatto i complimenti alle tue società per aver attestito due roster incredibili, noi siamo dei fortunati, dei privilegiati ad allenare questi gruppi eccezionali, e niente, noi ci festeggiamo, credo che ci ritroveremo un po' di volte questa stagione. sono avvicinate, sono già vicinissime, hanno fatto degli enormi spassi in avanti, è ovvio che prendere un giocatore come Paola mi sbasta gli equilibri, devo dire che Thompson ha fatto una stagione incredibile, soprattutto nel finale ha giocato in maniera pazzesca, quindi credo che abbiano preso i giocatori in panchina per una stagione molto intensa, bello, stimolante, anche noi siamo cresciuti e migliorati, anche noi abbiamo migliorato probabilmente gli elementi in panchina, sapendo che la stagione è una stagione dispendiosa, io credo che il campionato è di altissimo livello, non c'è solo Milano, c'è Scandicci, c'è Novara, ci sono altre squadre che ci daranno fastidio di sicuro, come ho detto più volte, è un campionato bellissimo, questa è la prima partita, l'antipasto di questa stagione incredibile e oggi godiamo noi, vediamo cosa succede in futuro.